bene ragazzi ciao tutti e bentornati sul canale di saturn 5 per un nuovo aggiornamento sul giallo di concordia proprio ieri martedì 25 giugno 2024 si è tenuta a porte chiuse l'ultima udienza del processo vediamo adesso di analizzare che cosa è emerso in sede di questa udienza processo per nei confronti di ricordiamoci del galù unico imputato indiziato sospettato e anche incarcerato i fermi cautelari appunto per essere sospettato l'assassino di alice neri è innanzitutto emersa una ritrattazione di una testimonianza avvenuta parecchio tempo fa proprio poco dopo l'omicidio appunto della povera alice un uomo che si trovava allo smarcafè quella famosa notte fra il 17 e il 18 novembre del 2022 aveva riferito a suo tempo di aver visto il galù baciare alice comunque un bacio tra il galù e alice alice si trovava già sulla sua ford fiesta stava per andare via dopo quel lunghissimo aperitivo che ha tenuto di più di otto ore con il cucui spunta il galù si avvicina appunto al lato guidatore al finestrino di alice e questo testimone ha riferito di aver visto un bacio fra i due bacio che sinceramente non mi ha mai convinto più di tanto considerato che la difesa ha sempre sostenuto che il galù stesso diceva io ho conosciuto quella ragazza bionda per la prima volta proprio quella notte allo smart caffè va da sé che un bacio fra due perfetti sconosciuti avvenuto dopo tre quattro secondi dall'incontro visivo è ben poco credibile questa testimonianza lasciava all'epoca presupporre una pregressa conoscenza fra il galù e alice che avrebbe comunque spiegato un eventuale movente anche dell'omicidio di conseguenza questo testimone ieri ha ritrattato probabilmente riflettendo bene a quella cosa che aveva visto quella notte si sarà reso conto che quello che in un primo momento gli sembrava un bacio fra i due ragazzi effettivamente era un semplice avvicinamento ricordiamoci che c'era anche una certa distanza fra lui e alice e il galù oltretutto era notte fonda per cui si vedeva poco e male indubbiamente questa ritrattazione gioca a favore della difesa che ha sempre sostenuto appunto che il galù non avesse mai visto alice prima di quella notte nella penultima udienza appunto antecedente a quella di ieri del 25 la difesa ha presentato in aula attraverso appunto l'osservazione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza la presenza di una strana autovettura a girarsi verso le ore 5 e 15 della mattina del 18 proprio in prossimità dei laghetti di questa vettura abbiamo già parlato non nell'ultimo ma nel penultimo aggiornamento che abbiamo riportato sul canale appunto ieri è emerso che questa il conducente di questa vettura è un personaggio già noto agli inquirenti è stato già interrogato ascoltato al suo tempo e assolutamente di nessun interesse per gli inquirenti l'avvocato ghini sempre ieri ha poi reso nota in aula una ulteriore presenza di un'altra macchina a girarsi proprio in prossimità della scena del crimine verso le ore 6 e 20 della mattina del 18 novembre facendo anche notare come sorprendentemente questa vettura fosse simile all'auto di alice ci ricordiamo che alice guidava una ford fiesta di colore blu mentre invece la procura è di opinione completamente diversa sostiene che l'auto non è assolutamente la stessa c'è stata poi un'intervista all'avvocato cosimo zaccaria ricordiamo il legato della famiglia neri proprio alla fine dell'udienza e ha riferito in sede di questa breve intervista ai giornalisti che tutto ciò che è emerso anche in questa udienza non fa altro che confermare la posizione di colpevolezza dell'imputato appunto del galù quindi dice sostanzialmente abbiamo nelle ultime udienze avuto una serie di conferme di quello che sapevamo già di quello di cui eravamo convinti mentre invece di opinione diversa è l'avvocato ghini che in sede di intervista però attenzione prima dell'udienza breve intervista fatta appunto da una giornalista ha sostenuto che in questa udienza non sarebbe emerso nulla di particolarmente importante e la giornalista allora gli ha domandato ma ci sarà poi una svolta ci saranno novità magari importanti in futuro e l'avvocato ghini ha risposto sì ci saranno il giorno in cui saranno ascoltati i consulenti personalmente sono convinto che se questa intervista l'avesse rilasciata dopo l'udienza anziché prima avrebbe fatto sicuramente leva sul ritiro di questa testimonianza testimone che all'epoca avrebbe riferito ad aver visto appunto il bacio fra alice e il galù questa ritrattazione evidentemente gioca a favore della difesa quindi non conferma attenzione ma rafforza la tesi che la difesa ha sempre sostenuto e cioè una assoluta non conoscenza pregressa prima di quella famosa notte fra alice e il galù la prossima udienza è fissata per il 10 di luglio come di consueto ci terremo aggiornati sul canale e come di consuetudine al prossimo aggiornamento